Voto unanime del Consiglio alla nuova legge contro il Ticket Redemption sarà vietato ai minori l'uso di queste specifiche macchine da gioco. È stata rinnovata la commissione mista conciliativa, servirà a favorire soluzioni conciliative, evitando il ricorso ai tribunali in caso di tempi di attesa e erogazione delle prestazioni. Dal 14 al 16 luglio torna in Cantaborgo con tanti artisti, spettacoli e la partecipazione dei performe in dei paesi gemellati con il comune di Sinalunga. La legge contro il Ticket Redemption Sarà vietato ai minori l'uso delle Ticket Redemption, le macchinette da gioco che all'esito della partita restituiscono al giocatore dei punti sotto forma di ticket che possono essere accumulate e utilizzati per l'acquisto di premi presenti all'interno delle sale giochi e dei centri commerciali. Il Consiglio regionale ha approvato la nuova legge con voto unanime. Il nuovo testo normativa è d'iniziativa di un gruppo di consiglieri del PD, prima firmataria Anna Paris. L'obiettivo è quello di combattere la ludopatia e lo sviluppo di questa patologia, soprattutto tra i giovani, che queste macchinette possono favorire. Secondo i firmatari, se questi congegni attivabili con moneta, con gettone o altri strumenti elettronici di pagamento non risultano strettamente ascrivibili al gioco d'azzardo in quanto non erogano premi in denaro e le relative vincite non sono esclusivamente dettagliate dal caso, possono risultare comunque particolarmente nocivi per i ragazzi. L'atto dunque modifica la legge regionale in materia vigente per disciplinare il divieto da parte dei minori dei dispositivi Ticket Redemption, prevede inoltre sanzioni fino a un massimo di 500 euro in caso di non osservanza del divieto e la redazione di un regolamento che detti le norme di attuazione. È un divieto, è un divieto dall'utilizzo di questi dispositivi che rendono questi giochi Ticket Tagliandi che troviamo nelle sale giochi per i minori, per i minori perché ci troviamo di fronte a ragazzi deboli e che più giocano si crea un meccanismo gioco-cratificazione, un meccanismo subdolo, subdolo perché il ragazzo non ha le capacità per individuare questo rischio gioco, spende, ticket per poi ottenere dei gadget di un rilievo minimo, mentre si crea un sistema che poi il ragazzo cresce e diventa un elemento strutturale nell'adulto e quindi è una forma di prevenzione primaria per evitare questi grossi problemi che abbiamo nella società contemporanea. Permettetemi di dire due parole sulla mia grande soddisfazione perché mi sono avvicinata a questo testo con alcuni, con grandi dubbi, non sapevo come sarebbe stato recepito, è stato invece recepito all'unanimità. Sono pochi articoli, se voi leggerete la legge sono pochi articoli, ma non vi nascondo che il processo è stato molto lungo perché è passato in Commissione Sanità, prima nella Commissione Sviluppo Economico, però ha trovato il consenso di tutto il Consiglio regionale. Riteniamo con questa normativa di fare un regalo a tante mamme e soprattutto ai nostri figlioli che sono questi ragazzi tanto deboli che purtroppo non abbiamo il tempo di controllare durante le 24 ore i loro pomeriggi, possono raggiungere queste sale giochi e purtroppo non essere controllati. La legge importante inizia il proprio percorso legislativo quando io ero Presidente della Commissione Sanità, quindi un test al quale sono particolarmente affezionato, ha fatto un percorso, si è strutturata, periodicamente viene aggiornata, vengono reinseriti altri elementi di massima attenzione soprattutto rispetto ai minori. E credo che queste siano delle attenzioni doverose che il Consiglio regionale fa in una logica di prevenzione. Questo è lo spirito della legge, una legge che è datata dalla scorsa legislatura ma che ha dimostrato di produrre degli effetti importanti rispetto alla logica della prevenzione. Serve molta informazione, comunicazione, ovviamente servono delle sanzioni, quindi una legge che si struttura con il passare del tempo alla quale sono e rimango particolarmente legato. Si tratta di una proposta di legge utile, aggiornata la nostra attenzione su un fenomeno in continua crescita e cambiamento che soprattutto continua a rappresentare una serie minacce per i più giovani ma anche per gli adulti, ha detto la consigliera Galletti. È una legge che mette un altro tassello in quella che è la lotta alle ludopatie, cioè il ticket redemption che sono una forma particolare con cui le vincite vengono trasformate in oggetti di piccoli valori ma che danno la gratificazione soprattutto ai giovani, ai ragazzi. È diventata una legge e questo è un altro passaggio importante appunto. Quello che dobbiamo fare, ci abbiamo molto lavorato anche nella scorsa legislatura con Andrea Quartini, nostro esponente regionale, oggi deputato ed esperto in tutto quello che sono le dipendenze, è cercare di combattere tutte le fonti di questo che è una vera e propria piaga sociale. Un'altra cosa su cui dovrà essere fatto un grande lavoro e si sta facendo ad esempio sono i giochi online, quelli che invece danno semplicemente degli omaggi, dei regali che sono delle gratificazioni che possono essere trasformate in qualcosa di economico. Insomma la lotta alla ludopatia è qualcosa che deve essere fatta ogni giorno e soprattutto ha bisogno di controlli, controlli e sanzioni esemplari per chi mette a repentaglio il sistema sociale e anche i nostri giovani con questi che sono né più né meno, che non innocui i giochi ma avere proprie induzioni alla dipendenza. Favorevole anche la Lega. Siamo stati tutti favorevoli quindi all'unanimità, siamo contenti che prenda corpo questa proposta di legge perché oggettivamente i giovani vanno tutelati e come ho detto in aula potrebbe essere una proposta di legge, quindi una legge di portata rivoluzionaria perché se si fa un buon uso di questa legge si fa capire ai giovani l'importanza di non giocare e di non diventarne schiavi perché gli schemi psicologici sono estremamente labili e fini da parte di chi inventa questi giochi di modo che i ragazzi restano in qualche modo invischiati e questi ragazzi poi crescono quindi potrebbero essere i futuri uomini che in qualche modo evitano di rimanere con lo stipendio lasciato nei vari giochetti perché anche il grattevinci che il nostro Stato propone quando ti fa uscire un numeretto che è vicino a quello che te hai pensi di essere stato solo sfortunato in realtà si è rimasto invischiato nella loro trappole Sanità, rinnovata la commissione mista conciliativa Uno strumento di conciliazione rapido a servizio dei cittadini che non hanno trovato soluzione con l'ufficio relazioni con il pubblico in casi quali tempi di attesa e derogazione dei servizi, lesioni alla dignità della persona, diritto all'umanizzazione delle prestazioni sanitarie presunte criticità organizzative o difformità nei servizi informazioni sulle modalità di fruizione delle prestazioni e dei percorsi sanitari e sociosanitari questa è la commissione mista conciliativa dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest rinnovata nei componenti e presentata dalla titolare della difesa civica in Toscana Lucia Annibali e dal presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo con loro anche il direttore generale dell'azienda Maria Letizia Casani La commissione mista conciliativa è una realtà molto importante perché rappresenta un presidio innanzitutto per tutti i cittadini e poi di vicinanza, quindi ha questo compito fondamentale di raccogliere le richieste raccogliere anche i sentimenti, io dico, dei pazienti, le loro storie, pazienti o familiari e restituire un po' una risposta, quindi è insomma questo ascolto anche umano di cui spesso hanno bisogno le persone che si rivolgono anche al difensore civico e credo che la cosa importante sarà essere capaci di creare un metodo di lavoro e quindi creare davvero una rete tra gli URP, le CMC e il difensore civico perché insieme si possa indirizzare al meglio la richiesta del cittadino quindi un lavoro davvero di squadra Noi siamo orgogliosi del nostro sistema sanitario sappiamo che ci sono cose che possono essere migliorate e sappiamo che dobbiamo avvicinarlo sempre di più ai cittadini questa commissione mista conciliativa ha proprio questa funzione nel caso ci siano disservizi, nel caso ci siano problematiche rivolte agli utenti c'è un luogo dove in prima istanza può essere data una risposta abbiamo un obiettivo, quello di avvicinare la sanità ai cittadini e fare in modo che un bimbo che nasca nel luogo più remoto, più lontano della nostra regione possa avere gli stessi diritti di un bimbo che nasce a Pisa questa è la sfida che noi mettiamo in campo in questa sfida questo luogo è un luogo fondamentale perché è un luogo che ci aiuta, aiuta l'azienda a lavorare meglio e dà risposte ai cittadini più veloci rispetto eventualmente a quelle giudiziarie che vorremmo evitare il messaggio è una sanità trasparente e vicina alle persone se qualcosa non funziona è giusto il cittadino abbia risposte e serve anche come riscontro per l'azienda perché in questo modo l'azienda può lavorare meglio e cercare di ridurre le liste d'attesa per esempio dare risposte di prossimità ai cittadini questa è anche buona sanità a giugno 2023 il direttore generale dell'azienda sanitaria ha nominato la nuova commissione mista conciliativa composta da 10 membri titolari e altrettanti supplenti presidente della commissione, nominata da Annibali l'avvocato Giuliana Romualdi abbiamo trovato oggi in questa prima riunione operativa un bel carico di lavoro perché la commissione non si riuniva da tempo e abbiamo già assegnato i casi quindi entro la fine di luglio faremo un'altra riunione proprio per rispondere ai cittadini, agli utenti che stanno aspettando da tempo una risposta da questa commissione che finalmente appunto torna ad operare, torna a lavorare e la cosa mi fa molto piacere perché la ASL del Nord-Ovest è sicuramente una ASL viva che dialoga con l'utente dialoga con il cittadino e quindi da qui il numero delle istanze e delle richieste alle quali andremo poi a rispondere il cittadino può rivolgersi a noi anche direttamente quindi scaricando il modulo presente sul sito della ASL oppure attraverso anche un'associazione di volontariato il Tribunale per i diritti dei malati o anche altre associazioni anche dei consumatori è importante perché tramite la commissione mista conciliativa che si è insediata oggi si attivano momenti di confronto e di ascolto su criticità rilevate dai cittadini e secondo me è molto importante che la sanità in tutti gli ambiti si apra al cittadino perché soltanto capendo i bisogni del cittadino e facendoci capire nel nostro fare che a volte diamo per scontate si possono anche evitare i conflitti si possono evitare i momenti di attrito e quando ci sono possono tradursi in azioni di miglioramento un ascolto veramente attivo sul cittadino sui bisogni del cittadino penso sia veramente la strategia vincente Tre giorni di Incantaborgo a Sinalunga L'Incantaborgo, il festival delle arti di strada torna nel centro storico di Sinalunga da oggi fino a domenica con tanti artisti spettacoli e una novità la partecipazione di performi di Aish Champagne e Dorking i paesi gemellati con Sinalunga moltissimi gli spettacoli da quelli acrobatici al teatro di strada dagli spettacoli di fuoco e di luci fino ad arrivare all'illusionismo e agli acrobati sui trampoli il festival giunto alla sesta edizione organizzato dal comune di Sinalunga con il patrocinio della regione toscana provincia di Siena, Anci Toscana comunità di pratica toscana per l'arte di strada Ritorna in Incantaborgo e ritorna una delle iniziative più belle che noi abbiamo la possibilità di raccontare le cittadine e i cittadini della Toscana un modo per ricreare socialità incontro, per raccontare arti differenti un modo per raccontare quanta bellezza c'è a Sinalunga siamo davvero felici insieme alla collega Elena Rosignoli di poter presentare in consiglio regionale questa iniziativa il 14, 15 e il 16 luglio a tutti i cittadini andate, visitate Sinalunga gustatene la sua bellezza saranno davvero giorni stupendi in cui ci si può divertire e si può sorridere in questi giorni dal 14 al 16 luglio nel comune di Sinalunga c'è una trasformazione nel centro storico, si trasforma in un festival di artisti di strada di musica e di divertimento sia per i grandi che per i piccoli ecco, un evento che è inusuale nelle nostre zone è molto particolare perché si vedono delle performance che sono diverse che sono appunto dedicate sia ai più grandi e ai più piccini e che danno la possibilità di conoscere anche alcune arti che sono meno visibili appunto nelle nostre zone fra l'altro ha sia il patrocinio del consiglio regionale che il contributo del consiglio regionale sempre attento a questo tipo di realtà proprio per sviluppare anche il turismo nelle nostre realtà nel comune di Sinalunga che fa parte della Val di Chiana Senese e quindi sono tre giorni intensi tre giorni di divertimento e tre giorni che danno la possibilità di conoscere un territorio anche con altre sfaccettature L'edizione 2023 sarà caratterizzata anche dal coinvolgimento di artisti provenienti dalle città gemellate dai champagne e dorking per una grande festa come ha spiegato il sindaco Edo Zacchei che ha lo scopo di rinsaldare sempre di più la collaborazione e l'amicizia che unisce le comunità per continuare a sviluppare progetti socioculturali e economici con i due paesi Numerosi sono gli spettacoli ma quest'anno gli abbiamo dato un ulteriore tocco che già avevamo lavorato in tal senso ma quest'anno in maniera più ricca e sottolineando in maniera più importante questo aspetto di invitare a questa iniziativa le nostre due cittadine gemellate una francese a Ischampagne e dorking in Inghilterra che vengono qua con delle loro esposizioni ma soprattutto con dei loro gruppi e in questi giorni faranno degli spettacoli anche loro quindi ecco un rafforzamento di questo legame che al di là dell'aspetto culturale vogliamo favorire insomma anche sotto l'aspetto sia sociale ma anche economico insomma di sviluppo e attrazione di un territorio e di questa parte insomma della Toscana quindi è un appuntamento di cui andiamo fieri dove ci dà l'opportunità di rivivere il borgo la piazza del paese in maniera più naturale anche lontano dal tran-tram e dalla frenesie dei giorni normali la fretta di tutti i giorni insomma che per questi tre giorni ecco si spenge un interruttore dal tardo pomeriggio fino a tarda notte insomma si può girare per i vicoli del centro storico vedere spettacoli sentire anche profumi vedere scorci insomma di un paesaggio e di un architettura che spesso non notiamo e dimentichiamo con troppa facilità quindi riappropriarsi anche di questi aspetti è sicuramente importante grazie a tutti grazie a tutti